le tendenze di questo autunno per il makeup sono il monocolore e la base radiosa come l'ho realizzata? con le ultime novità ti lascio subito al video ciao sono Nives ben ritrovati sul mio canale oggi realizzeremo una full face come vogliono le tendenze di questo autunno un makeup luminoso e monocolore con delle novità molto interessanti il primo step è rendere il nostro viso luminoso quindi iniziamo subito dalla skincare utilizzerò questo siero alla vitamina c del brand origins è una spremuta di agrumi non so se l'avete provato vedete è molto fluida ci aiuta a dare quella freschezza soprattutto a un viso maturo la vitamina c non deve mai mancare soprattutto su una pelle matura guardate che bella luminosità poi è un ottimo schiarente della stessa linea c'è anche il contorno occhi è leggermente pescato e aiuta a dare quella freschezza e luminosità al nostro contorno occhi tampono delicatamente il prodotto fino all'assorbimento con il siero e il contorno occhi alla vitamina c che bella luminosità che abbiamo creato e siamo già a buon punto adesso entra in azione lui il nuovo skin booster 24 ore foundation di debora milano è un fondotinta di ultima generazione è un ibrido tra skincare e makeup formula arricchita con vitamina c quindi ci aspettiamo un viso radioso disponibile in 5 nuance io ho scelto la 02 beige il pack è in letro e abbiamo un dosatore a pompetta molto pratico direi applico qualche goccina utilizzo un pennello kabuki la texture è leggerissima è proprio coccolosa la coprenza è da media alta per cui si può stratificare si sfuma molto bene molto pratico anche per chi si approccia al makeup poi anche una buona profumazione si assorbe subito devo dire che l'effetto mi piace moltissimo uniformato molto bene l'incarnato questo velo di radiosità lo trovo piacevole perché dà subito quella freschezza al viso poi si sfuma veramente in zero secondi ti lascia una pelle liscia confortata e molto idratata adoro 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 sono veramente colpita da questo prodottino non avrei pensato ma guardate l'aspetto veramente stupendo lo consiglio assolutamente su una pelle matura e per chi cerca l'effetto seconda pelle non dimentichiamoci che contiene anche vitamina c quindi ragazze è quel prodotto che aiuta anche la nostra pelle è un 30 ml e il costo si aggira intorno ai 14 euro sarò più esaustiva in descrizione restiamo sempre in casa debora milano e qui abbiamo il nuovo correttore 24 ore perfect all over concealer long lasting e waterproof è un prodotto completo anche qui parliamo di makeup care al suo interno troviamo acido ialuronico probiotici e tè verde una buona azione idratante ed energizzante un valido aiuto soprattutto su un contorno occhi segnato otto colorazioni io ho scelto la 02 beige è dotato di un maxi applicatore angolato pratico per raggiungere ogni zona del viso sono proprio curiosa di vedere all'azione questo prodotto metto un po sul dorso dalla mano texture una soffice mousse già questo mi piace pennellino di precisione dall'interno è molto coprente bisogna stare molto attenti su un contorno occhi segnato non abbondare lascio agire un po poi vado a tamponare tutto un consiglio non sfumate subito subito il correttore ma lasciatelo aderire qualche secondo così sarà molto più coprente e piace l'effetto perché comunque pur essendo molto coprente non ha evidenziato le rughette questo è un plus in più poi lascia questa bella luminosità quindi ci toglie anche la stanchezza neanche coperto il solco niente male questo correttore non abbondate perché è una mousse molto ricca per cui è un attimo creare un bel pastrocchio e evidenziare le rughette quindi dobbiamo andare in modo leggero ricordiamoci sempre che meno è meglio ho fissato il tutto con un velo di cipria e il risultato è stupefacente sono innamorata di questo correttore è pazzesco mi ha levigato tutta la zona perioculare grazie ai principi attivi contenuti nella formula poi adoro questa luminosità mi ha tolto letteralmente la stanchezza il prezzo piccolissimo sotto gli otto euro straconsigliato su un contorno occhi segnato adesso andiamo a realizzare il nostro trucco occhi monocolore con una novità di revolution l'ombretto in mousse guardate che meraviglia questo è l'amber bronzer è il bronzo è il colore trendy di questo autunno è un metallizzato molto molto sottile perfetto su palpebra armatura perché non segna utilizzo un pennello piatto setole fitte io ho già preparato la mia palpebra con un primer che poi ho settato con la cipria ricordate sempre di farlo il primer ci aiuta a far durare di più il nostro trucco ma non solo aiuta anche a distendere la palpebra wow colore veramente intensa che scrivenza facile da sfumare sfumo anche verso l'esterno pennello fluffy e sfumo che bello che è molto autunnale ci piace che meraviglia ottima scrivenza sfumabilità in 02 cosa devo dire eccezionale questo nuovo ombretto in mousse di revolution la soluzione perfetta per creare il look di tutti i giorni aderisce perfettamente e non si insinua nelle pieghette perfetto anche per chi si trucca poco e perfetto al mattino quando sei di corsa ho rifinito il tutto con un infracigliare e una codina sottile e naturale ci manca solo lui è il nuovo mascara 24 ore instant maxi volume di debora milano promette volume estremo alla prima passata curiosissima di vederlo in azione è molto ricco per cui scarico lo scovolino molto grande e questo a me non piace per chi ha ciglia cortissime purtroppo non è pratico però andiamo a vederlo pur essendo grande scomodo riesco a lavorarle bene faccio roteare lo scovolino in modo che lavoro bene dalla radice le punte mi ha sorpreso guardate la differenza io sconvolta una sola passata spero che si veda bene in videocamera perché al naturale ho delle ciglia spaventose sono senza parole la sola passata sono perfettamente separate non fa grumi è veramente eccezionale grazie alle fibre e alle ceramidi che ci sono all'interno il risultato è stratosferico nero intenso come piace a me ma il volume è spaziale le promesse sono mantenute se l'hai provato fammelo sapere tre prodotti di debora milano che hanno superato le aspettative ho rifinito il tutto aggiungendo un po di bronzer un tocco di blush un gloss sulle labbra e questo è il nostro risultato del make up con le nuove tendenze dell'autunno monocolore e luminoso facile da realizzare per il look di tutti i giorni e soprattutto una base sottile maravigliosa cosa ne pensi aspetto i tuoi commenti il tempo è volato e siamo giunti al termine mi trovi anche nelle piattaforme di instagram e tiktok dove ogni giorno troverai tanti contenuti beauty utili per te ciao alla prossima